Bene, ciao a tutti sempre qua da Montesilvano a Controrumore continuiamo con lezioni di diretta con Alessio Di Meco, Massimilando Urbano, però oggi abbiamo un grosso problema da risolvere perché noi ci è arrivato un libro dall'America, non sappiamo che si dice, quindi dobbiamo ricorrere al guru di alto livello perché praticamente noi, non conoscendo l'inglese, vediamo delle note piccoline e poi quelle più grandi come le cacatine di mosca quindi non sappiamo che significa, quindi la cosa è che andiamo a leggere queste cose che le mosche fanno quando andano al bagno e vediamo, poi sarà il guru a dirci come si pronuncia se è Rathamakul, Rathamakul, Rathamakulo, poi ci vuol dire a lui, sicuramente comunque andiamo ad eseguire questi esercizi bene, Alessio, allora adesso ci fai ascoltare tu il single, il single Rathamakul adesso troviamo un altro esercizio che si chiama doble, 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 parakule, no, Rathamakule, Rathamakule, ah Rathamakulo allora, doble Rathamakule, poi il guru comunque ci darà una mano e ci dirà, ci risponderà che cosa significano queste parole che noi stiamo dicendo, perché noi l'inglese non sappiamo noi poniamo solo le cacatine di mosca, poi vediamo come si chiamano veramente allora andiamo ad eseguire il doble Rathamakule qui andiamo ad eseguire il doble Rathamakule quindi è doble Rathamakule chiaramente c'è il single, c'è il doble, c'è il triple tutte Rathamakule tutte Rathamakule andiamo a fare pure per leggere queste altre cacatine di mosca quindi è triple Rathamakule ora andiamo ad eseguire il doble Rathamakule ora andiamo ad eseguire il doble Rathamakule e ora andiamo ad eseguire il doble Rathamakule bene Alessio, bravo, adesso dobbiamo ancora migliorare anche perché questo libro è appena arrivato dobbiamo capire prima che significa che è scritto in inglese noi non sappiamo quindi c'è single Rathamakule Rathamakule o non so doble e triplo quindi una mucchiata praticamente di Rathamakule quindi adesso aspettiamo la risposta che ci darà il nostro guru amico il radissimo guru e la lezione è finita dico solo se vi è piaciuta ditelo a tutti se non vi è piaciuta fatevi i cazzi vostri ciao